e poi adesso andiamo giù verso soprapunte dopo la rotonda danno la partenza sono nove chilometri tutta salita hai già qualche ritirato? no comunque tu sai sempre lì in fondo li portiamo tutti su, ci metteremo 30 minuti 35 non penso di più ma si stanno uno, non è un problema ecco perché qua sicuramente su per questo quale il ritorno sarà uno scatto come l'anno scorso tanto li portiamo su tutti li portiamo su tutti quando arriva arrivo si si li portiamo su tutti si stavo va bene magari ogni tanto mi fermerà perché se l'anno scorso ad agio c'è l'anno scorso del noturne sei caro tanto tu arrivi su con l'ambulanza perché l'ambulanza di solito arriva per ultima va bene comunque io ti chiamo già magari qua nel primo chilometro 2 o 3 va bene non c'è un cazzo di niente penso che l'inizio gara è già là in fondo questa è un cazzo di nuove il cazzo di niente Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.